Ah, Gabri, dove hai nascosto questa armatura? Eh, dimmi, dimmi, è in un posto secretissimo, non lo troverai mai. No, 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 questa cosa è impossibile, Duny si trova sempre tutto. Eh, mamma mia. Tant'è che una volta ho nascosto le chiavi e me le sono ritrovate in un posto brutto. Non voglio aggiungere nient'altro perché sennò... Non voglio sapere. Esattamente. Allora, scusate per questa cosa. Gabri, dimmi un po', acqua, aria, fuoco, vento. Eh, ti stai avvicinando, quindi... Fuoco. Sì, più o meno. Ok. L'acqua si sta... Li stai a scaldare, diciamo, ok. E da questa parte? Com'è che è? Ma l'acqua si sta scaldando. E invece... No, no, così si raffredda. Eh, ma che due palle. Così? Dimmi un po'... Più o meno si scalda, un pochettino si scalda. Duniziani, guardate che noi dobbiamo trovare questa armatura perché la mia armatura è molto preziosa anche perché... No, no, sì, così si sta raffreddando, si sta raffreddando la acqua. E comunque, comunque, Duniziani, cioè... No, no, così fredda. No, che ruotura di scatole che sei. Di ghiaccio. Non mi fa mai parlare. Quindi da questa parte, dici, si scalda? Adesso si... Sì, adesso si sta un pochettino raffreddando. Non va bene questa cosa, quindi è qua per forza. No, si sta raffreddando. Sicuro? Scusa, ma cos'è che hai fatto? Hai parlato a bassa voce, per caso? Come? Hai parlato a bassa voce, Gabri? Ma come? Non si deve parlare a bassa voce. No, non volevo. Scusa, ma dov'è? Domanda? Da questa parte forse? No, non è lì. Ma porra, aspetta che devo... Ho un combattimento con uno scheletro. E poi sei senza armatura, Denis, devi stare attento. Eh, ma cosa vuol dire anche voi? Ma vai a quel paese. Ma secondo te muoio per uno scheletro. Oh, puzzone. Ma può essere. Un sacchione rinco stupido. Allora. Eh, devi trovare l'armatura, non l'hai ancora trovata. Secondo me da questa parte. Eh, si sta iniziando a scaldare. Sì, si sta scaldando. Sei troppo prevedibile. Cioè, veramente. Si sta scaldando. Eh, proprio tanto. Eh, mamma mia, qua un focone che è proprio porca. Mamma mia. Porca puzzola proprio. Ah, chi l'avrebbe mai detto la mia armatura è proprio qua. Perfetto. Ah, Fede, questo è il santuario dove Rosi e Chiara si sono sposati. Esatto. Sì, mamma mia. Rosi e Chiara sono nostre amiche, no? E sono molto simpatiche. Allora, Chiara, va bene. Registra con noi, Donizia, la conoscete tutti. Infatti. Eh, cioè, spero che la conosciate. Se non conoscete Chiara, guardatemi altri video, eh. Eh, infatti, cioè. Intanto vi dico anche di iscrivervi, eh, cioè. Iscrivervi al canale. Esatto, iscrivetevi. Commentare con, conosco Chiara, se la conoscete, oppure non conosco Chiara, se non la conoscete, così lo so. Capisco quanti conoscono Chiara e quanti no. Quelli nuovi, quelli nuovi del canale magari non la conoscono. Esatto, e quindi voglio sapere se non la conoscete, così vi do un cuoricino perché se non merita quella schifosa. No, scherzo, scherzo. Che stai vedendo questo video? Se stai vedendo questo video scherzavo. Non è vero. Allora, iniziamo questo altro round. Caro Gabri, dammi il tuo trident. Eh, ce l'ho solo io questo. Non ce l'ha nessun altro. No, non è vero. Allora, tu sei un povero. Perché guarda come si vanta. Vedi? A me le persone che si vantano, eh. Poi dopo cosa succede? Eh? Hai fatto pure la cifra. Grazie Gabri, mi ha fatto avere una cifra molto bene e sono contento. Adesso Dunis, allora prima di tutto nasconditi, cioè nel senso non guardare. Mi sa che comunque... Va bene, va bene. Esatto, qualcuno è entrato in camera sua, l'ho sentito. Eh. No, però così vedi caro mio Gabri. Eh, come? Così? Non va bene, non va bene così, affatto. Scusami. Aspetta, anzi faccio così. Ok, faccio... E metto qui sotto. Esatto, eh, puzzacchione. Adesso guardate Dunisiani cosa si inventa Dunis, eh. Anzi, guarda Fede. Aspetta, eh... Guarda, guarda, guarda. Così. Guarda. Premi... Prova, prova, prova. Ok, perfetto. Ok, perfetto. Allora, Dunisiani adesso Dunis sa cosa fare perché praticamente io devo andare prima di tutto a fare una cesta, altrimenti non va bene. Eh? Non va bene. Caro Gabri, però io ti informo che questa... Eh, dimmi, dimmi. Questa cesta sarà nascosta in un posto un po' più oscuro e segreto e vediamo Dunisiani se la troveranno. Eh sì, e come, e come? Perché praticamente, Dunisiani, guardate dove sto nascondendo io questa cesta. Vedi, vedi, vedi. Io vorrei tanto saperlo. E tu non guarda, guarda per terra perché sennò magari... Eh, io sto guardando per terra. Eh, 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 allora, io la sto nascondendo... Guarda che è complicato da fare, ma porca miseria, cioè, c'è uno schermo... Come si permette questo schifo. Aspetta un attimo che faccio slash, ok, god, perché altrimenti qua mi ammazzano gli scheletri, che non va bene. Che schifo. Eh, però così abbiamo dato indizi, questa cosa non va bene. Non va affatto bene, questa cosa. Eh... Assolutamente da non fare. Ok, perfetto. Allora. Forse ho capito. No, non puoi aver capito, ci sono mille scheletri nel mondo, non puoi aver capito, rincoglio... Eh, però no, è vero, no, no. Mi fai incavolare. Fede, mi fai incavolare. Eh, scusa, regali. No, no, alla fine non ho capito perché io pensavo agli zombie. Eh, certo che non hai capito, sei stupido. Eh, cosa vuoi capire tu? Eh, mamma mia. Scherzo, dai, ti voglio bene. Allora, puoi uscire, dai. Oh, che bello. Fede, no, non mi dire che Fede, adesso ci spoilerà tutto. Guarda per terra, guarda per terra immediatamente. Va bene, va bene, va bene. Scusa un attimo, eh. Adesso, adesso è tipo qua e le do una sgridata a questa Fede che manco, manco Gian Giuberto può trovare. Ok, vai, vieni, Gabri. Ah, come ti sei permessa tu a non venire. Scusa, scusa. Puzzacchiona. Cosa sto dicendo? Ehi, fatti. Vai, Gabri, dilli un po'. Allora, di qua è giusto, mi sto avvicinando. Allora, acqua, acqua, totale. Di qua, di qua. L'acqua un pochino si sta iniziando a scaldare, in effetti. Ah, che bello. Oppa, cavolo. Vabbè, io posso volare, Gabri, quindi ti asserverò dall'alto. Mamma mia, mi sto avvicinando. Guardate che cinematic che riesce a far Dunis, eh. Che lui è esperto. Sì, 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 assolutamente. Fuoco, fuoco. Fuoco, fuoco. No, acqua, acqua. No. Sentri, qua dentro è acqua. Però qua continua il fuoco. Qua sta continuando. Acqua, acqua, acqua. Immediatamente fuori, schifoso. Acqua, non è in casa. Cioè, pensi. Io so che tu sei vanitoso, no? E quindi evito di darti questo piacere. Di farti entrare in casa tua. Fuoco, fuoco. No, acqua, acqua. Qua dentro è acqua. Qua dentro è acqua. Io pensavo che erano altri dente. Eh, pensavi male. A quanto pare pensavi male. Comunque se vai indietro è acqua. Se va dai, allora dov'è? Qua? No, acqua, acqua. Eh, due disegni, dobbiamo fargli capire bene. Acqua, ancora acqua. E dov'è? Stavi andando bene prima. Qua? No, fuoco. Allora, là è acqua, Gabri. Di qua? Fuoco, fuoco. Esatto, vedi? Eh, oddio, però dov'è? Eh, devi continuare, devi continuare. Devo scavare un blocco per caso? No, 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 assolutamente no. Questa cosa no. Però veramente non mi ricordo nemmeno io bene, in realtà. Ma come? Eh, no. Ok, 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 ho capito, capito, capito. Ho capito tutto, tutto, tu disegni. Lasciate fare a me, ok. Eh, 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 ok, vai, così è fuoco, così è fuoco. Sì, 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 vai, devi fare il giro, vedi, ok. Ecco, fuoco, fuoco. E qui dentro. In effetti sei stato molto veloce. In effetti sei stato molto veloce. Ecco qua, vedi. Molto bravo, molto bravo, sei stato veloce. Grazie, grazie. Eh, scusa, scava immediatamente questa cesta. Immediatamente. Che non devo essere io la servetta di qualcuno qua. Scusa, scusa, tieni. Ok, sarà meglio. Adesso. Info, Denis vola. Scusa, tu te ne sei accorto solo ora che volo? Eh, sì. Cioè, io voo. Io e Fede abbiamo volato per tutto il video, però fai te. Come? Vabbè, insomma. Fede, tocca a te. Mi devi nascondere questa volta la spada, eh. La mia bellissima spada che uso per conficcarla. Eh, nei mob. Cosa? Eh, scusate, la spada. Ovviamente si deve trafiggere, no, i mob. Però, Denis, se non devi guardare, eh. Sono proprio cringe quando faccio così. Allora, ehm... No, non guarda. Dai, che rottura di pappole, dai, su. Adesso io vado da questa parte. E non vedo. Guardate, Doniziani, che bel bioma, eh. E voi vedete sempre i biomi bellissimi, vedete. Tipo, di questo mondo. Questo è il bioma del ghiaccio. Lo conoscete? Io vado a pattinare qua. Porca miseria. Guardate che bel pattinaggio. Mamma mia. Il pattinaggio artistico faccio... Wow, pazzesco. Come va la situazione lì? Eh, non l'abbiamo ancora nascosto. Mannaggia. Stiamo cercando di scalare la montagna. Io vi faccio fuori. No. Io sì. Vogliamo vivere. No. No, secondo me non volete vivere. Secondo me volete solamente... Prendermi per il sedere. No. No. E come? E come? Schifosi, eh? Dite la verità. No, no. Questa è la verità. È la pura verità. Senti come ride Fede in sottofondo. Che lei sa la verità. Lei lo sa. Lo sai, vero tu? Puzzacchiona. Fede la puzzacchiona. Invece l'altra è Fede la colorata. Che non so quale sia meglio perché entrambe fanno... Cagare. No, vabbè, dai. No. Dai, no, no. Scherzete tutte e due bellissime, ok? Top, tesore. Dai, però io sto guardando i cavalli. Ma non è possibile raragare a favore. Adesso mi tipo fra tre, due e uno. No, no, no. Non l'abbiamo ancora nascosto. Ok, vi do cinque secondi. Dunisiani cinque. Cinque. Quattro. No, no, no. Aspetta, aspetta. Tre. Io non... Gabri. Due. Ecco, mi hanno nascosto però non ti ti pare. Anzi, ti impacci tu da noi. Da te. Sì, certo, che mi sono perso completamente e ho anche rotto il microfono, scusate tanto. A volte purtroppo questa cosa può capitare, ma voi ben sapete che Dunis è un pro di fare video, no? Voi sapete questa cosa che Dunis è, porca miseria, no? Sempre migliore, sempre più migliore, anche se non si dice. Ma vabbè. Io questa cosa non vorrei che fosse successa per davvero, ma secondo me è successa. Voi avete sentito qualcosa, Dunis, lo scommetto. Questo è quando purtroppo a volte le altre persone convivono con altre persone. Eh, quando le altre persone proprio si fanno odiare. Sì, sì, sì. No, vabbè, è comprensibile comunque che è successo ciò. Comunque, Gabri, sei lontano dal posto? Dimmi un po'. Noi siamo dove eravamo prima, da te, dove eri te prima. Adesso io mi tippo, non mi interessa più niente. Eh, tippati, tanto abbiamo nascosto. Ok, perfetto. Allora, dimmi un po', fuoco, acqua, rievento. Beh, l'acqua si sta iniziando a scaldare. Ok, perfetto, acqua un po' più calducia. Però aspettaci. Eh, dai, adesso ti devo far volare pure a te, aspetta. Sì, sì, sì. No, 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 come che? Fly, no, flood, fly, Gabri. Quanti comandi? Oh, che bello. Oh, scusami, come ti permetti di andare? Adesso tu devi camminare, basta. No, come? Ma perché dove stavo andando? E se hai permesso di salire... Scusami, cosa sta facendo? Lo devo bannare. No, 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 ti prego, Dennis. Cosa ha fatto? Vede, saliamo sopra, Dennis. Cos'era quel vuo? Mi hai vomitato in testa che cos'hai fatto? Scusa. Scusa, venite giù immediatamente, schifosi. Eccoci, eccoci. Ditemi un po', acqua? Beh, l'acqua si sta iniziando a scaldare. Ok, perfetto. Però fai anche un po' parlare, Fede, dai. Va bene, va bene. Dammi tu le indicazioni, Fede, forza. Mamma mia, si sta riscaldando l'acqua e... Ok, perfetto. E sta diventando sempre più calda, giusto? Sempre di più. Si sta riscaldando, sì. E invece adesso, dimmi un po'? Eh, no, 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 si è andando nel mare. Ok. Quindi è per forza acqua, normale. Invece qua? Eh, qua fuoco, fuocone. No, no, no. Troppo, troppo, troppo. Infatti, troppo. Scusate, ma dove l'avete nascosta? Devo scavare un blocco, per forza. No, no, no. Ah, da queste parti. Da queste parti, mi... Sì, da queste parti. Comunque ho avuto per un ritardo nel cervello per mezzo secondo. Vabbè, dai, ma ci sono efficienti. Non trovavamo nessun posto. È bello, no? Metterlo online mezzo al cavolo. Sì, dopo, è la prima volta, quindi... Vabbè, dai, ci sta, ci sta, ci sta, devo dire. Molto bravi, comunque, sai anche dare indicazioni, devo dire. Ho sentito una cosa? Spero che non si fosse sentita nel video, ma vabbè. No, no, ti prego. Finiamo, finiamo, dai. Quindi, Doniziani, è stato bello fare questo video. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, scrivetemi appunto se si conoscete chiaro oppure no. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.